Commentate qui sotto con il primo marcatore ma soprattutto con il minuto esatto del gol in Juventus-Napoli A chi indovinerà farò lo screen e lo reposterò sul mio profilo Instagram Fateci vedere tutto il vostro supporto, vi chiediamo almeno 6.000 mi piace su questo video entro a mezzanotte Se volete nel fine settimana il pronostico gameplay di Milan-Atalanta Quindi mi raccomando se lo volete raggiungiamo l'obiettivo Ciao ragazzi e ben ritrovati Ovviamente qui parliamo della finale di Super Porca Italiana Juventus-Napoli, adesso ne sveliamo chi ha la Juve e chi ha il Napoli Ma prima di continuare se siete dei grandi amanti del calcio come noi Dovete assolutamente passare sul link in descrizione per andare a scaricare in maniera completamente gratuita OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio Applicazione appunto completamente gratuita per iOS e Android Risultati delle partite in tempo reale Statistiche, notizie, curiosità Potete tenervi aggiornati a 360 gradi sulla vostra squadra del cuore E potete attivare le notifiche Così arriva direttamente e poi andate a spulciare Andate a fare gli affari di tutte le squadre del Serie A Quindi scaricatela perché siamo sicuri che non ve ne pentirete Ma io l'occhiali dove l'ho messi che ce vedo Ma perché c'ho l'occhiali? Su PES 2021 ragazzi miei Andiamo a fare ovviamente Juventus-Napoli L'ultima volta in Inter-Juventus Chi ha preso la Juventus? Tu L'ho presa io da conseguenza Adesso tocca a te E io mi prendo il Napoli Quindi preparatevi e vediamo Quel che accadrà Va bene? Dai Tiè! Dai che se comincia! Dai che se comincia E vediamo quello che può accadere Ma vi ricordiamo che le probabili formazioni che avete visto Regà, sono attuali Poi può sempre cambiare tutto E quindi se poi cambia qualcosa Noi la palla di vetro Non la tenevo Lui gliel'avevo Vi ricordiamo che questa partita Dovesse terminare in parità Ovviamente andrebbe ai tempi supplementari E poi eventualmente ai calci di rigore Esatto Perché il Konami Stadium? Perché lo stadio Il MAPEI Stadium non c'è sta E di conseguenza abbiamo messo lo stadio De quelli farlocchissimi Esatto E che dati ha mi fatto mettere divise queste qua Non so per quale motivo Io volevo quella celestina No no lascia queste che è meglio Perché non ce li vedi perché sei orbo Barra dal tonico Non ce li vedo sì esatto Va benissimo Quindi Avere colori ben distinti Sì assolutamente vai E comincio io dai Vai Lorenzino Ca miseria subito regà Prima occasione Napoli Bravo Aaaaaah 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 Ho tentato il tiro della fortuna Nooo Dopo il biscotto della fortuna Il tiro della fortuna Però a meno Quattro ho lasciato proprio tutto Lo spazio possibile Non è andata poi È un po' demoralizzato Ma la pizza giustamente a Napoli Pecchè mi detto patatina Eccolo qua Eccolo qua Brava Non voglio dare il calcio d'angolo Bravissimo Ho il tiro Ho il tiro Pano Pano Tira da qua Mamma mia regà Ca miseria oh Ti c'è mazza quanto rumore che fai Ma solo Ti mi ha aspettato Lava ha detto Non so se è bene Eh no Perché la Shesny stava buttando da schiena e gli rimpallava addosso Stava a squacco Erano problemi Stava a squacco i rally Scenzi Come al solito Erano problemi Guarda E' rimasta là Niente Non sapevo se è passarla Lava di passaggio avevi una Un'autostrada più o meno Vai 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 Goal Uh No Alvaro Non esce Sfrutta l'errore in difesa Non sbagliare Che mannaccia oh 1 a 0 Alvaro Alvaro Morata Era buona l'azione Ma ho presa Come ho fatto Ecco Ma perché Porca miseria Poi qua Non ti aspettavi Che andavo verso là Manolas E Morata Non sbagliare Gli errori si pagano Ma dalla rega Ormai l'avevo saltato Pensavo di averlo saltato Non mi aspettavo Che avresti preso L'intervento Con la voglia di gridare a fondo Siamo delle teste di cazzo Va bene Eh 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 Sbagliato Mamma mia Ce sto a mettere tutto il corpo Ce sto a mettere oh E levate Levate Buona Ancora che si In mezzo Ragazzi Ragazzi Mia noia Se leva Manca a pagarla Oro Io lo so Tocca Mettegli le mani in faccia Si mangia il 2 a 0 6 a 3 3 a 2 Cioè voi ditemi Voi ditemi Io ho rischiato Da favore il 2 a 0 Cioè rega Rega ha fatto Tutti Rega Stai tutta Ma che cazzo Cioè ma sei il parma De taversa Sei Il parma De taversa Oh stai tutta Arroccato dietro Cioè interiore Oh ma davvero Vai S'ha aperto tutto Cristiano Ronaldo Mamma mia No troppo dietro Troppo dietro Mamura Ma c'hai papo C***o Ma te la levo No non me la levo Ma come no Ma mia sto sempre a parlare Ma Se tu mi sto sempre a parlare Rimasto là Ta sollevata Si col c***o Infatti ho visto Con la masina Vada Guarda che roba Porco Mamma mia Cioè Fai perdere la pazienza Agli angeli E mamma mia Che c***o è E dai E te se leva E no E Affan Che c***o Io non c'ho parole Ronaldo Io non c'ho parole Rega E Eh E E mo sto a cominciare A spingere Per un po' Lico io Guarda che sta a fare Guarda che c***o qua Mamma mia Oh A te A chi ha data Perché a me Guarda Ma che è sto schifo Mamma mia Fa il gioco E' buona Ma come è buona E' buona Alvaro Morada E' solo gol Ma spingere Ma c'hai troppo I rimpalli che vinci Oh I rimpiattini Oh Cristiano Mamma mia Oh C'è poco da parlare Stiamo godendo C'è poco da parlare Stiamo godendo C'è poco da parlare Stiamo godendo Voglio ritornare a fare cinema Siete delle merda Agghiacciante quello che dicono Cioè Dimmelo Dato vinto E finisce la storia Cioè C'erdevo pure tempo A far gameplay Infatti è quello che dico io Lasciamela vinta e basta Mamma mia Che razza di culo La patacca le mamme Dai Eh Ma una lunga che è finita Eh finita Ma guarda che roba Oh Ma guarda come deve perdere uno Fischia C'è qualcosa di assurdo Dai Se uno deve perdere così Oh Ma solo Ma solo così Ma solo C'è qualcosa di avverrante Oh Due Mamma mia Oh 19.74 Paticamente nel secondo tempo Non hai fatto No Nulla Nulla Infatti Nulla Tu hai solo fatto Rimpalli Io ho vinto Solo Quello Due Tiri Ho fatto Solo Rimpalli Sette Quello Te l'ho Fatto Ho detto Niente Va benissimo La Supercoppa Quindi a vincere Napoli 2 a 0 Detto questo Una marea Di mi piace Su questo video Entro a mezzanotte Se ne arriveranno 6.000 Arriverà anche Il pronostico Gameplay Di Milan Atalanta Mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi A entrambi I canali Profili Ci vediamo Alla prossima Con un nuovo video Scaricate OneFootball Per restare Sempre aggiornati Vattene Acqua E Ciao